Il Consiglio Comunale di Maisana, all'unanimità, ha deciso di intitolare l'area verde della frazione di Colli, dove ci troviamo adesso, all'alpino Luigi Perazzo, caduto in Russia nel corso della Seconda Guerra Mondiale. La sua famiglia è una famiglia che vive qui, è sempre vissuta qui e vive tuttora a Colli, ma tutto il Paese ha favorito questa intitolazione, del resto ogni anno spesso, anzi, vengono gli alpini di tutta la Liguria per ricordare il loro commilitone caduto, Luigi Perazzo, appunto. E verranno anche quest'anno, sabato, in occasione della intitolazione ufficiale di questa area verde. Un'area verde che è del comune, ma che ha la caratteristica, anche questa è una bella cosa, che proprio gli abitanti di Colli la tengono curata, se ne occupano, hanno anche pulito la zona circostante, compresa la strada di accesso al Paese, e quindi rappresentano un'interlocuzione molto forte con l'amministrazione comunale. Quindi un insieme di eventi molto positivo che si svolgerà appunto sabato prossimo. A che ora l'evento? Alle 16. Sabato, nel corso di questa celebrazione così significativa, verrà ricordato suo fratello. Che ricordi ha? Mi ricordo che ero a scuola l'ultima volta che è venuto, è venuto a salutarmi, era a scuola e mi ha baciato e dice vado in Russia. Mia mamma qua, prima di andare a scuola, ci ha detto parto per la Russia. Ma non andarci, ti rompo un braccio, perché non ci vada? Poi ci andavamo e mi hanno detto che non succede niente, non succede niente, però non è più venuto. Ecco, il ricordo di questo annuncio doloroso, di quando ve l'hanno dato, lei ha qualche ricordo? Eh, subito lo davano disperso. Poi negli anni 90 mi è arrivato dal governo che è seppelito in una fossa comune a Tambor, che è in Russia e non si può recuperare i resti perché è fossa comune. Certo, certo. Ecco, spesso vengono gli alpini che non dimenticano mai i loro amici. C'erano tanti alpini, sì, e anche sabato ne vengono tanti. Bene, e quindi... Gli amici e proprio le associazioni di alpini da Genova, siamo sotto l'associazione di Genova noi. Certo, certo. E quindi sabato appunto il ricordo di Luigi Perazzo, un alpino che è mancato in Russia.